E' lì che, diciamo, un dico nasce, però solamente, almeno cresce, crescono le forme di buddismo. Quindi io spero che anche dopo questo primo incontro che stiamo facendo oggi, spero, attraverso sempre anche di Giorno Mattia, quindi attraverso anche Massimiliano Bastoni, di entrare e cominciare a parlare di buddismo nelle scuole, perché oggi se ne parla veramente di molto, molto poco. E quando parliamo di buddismo, una cosa che, diciamo, bisogna sottolineare, lo voglio sottolineare in maniera bella, dura, si parla anche di suicidio. Quindi ragazzi che sono morti per colpa del buddismo. Quindi non dobbiamo, ecco, spiazzare più di tanto, tra parentesi naturalmente, perché quando si parla di buddismo, buddismo, nel senso, perché i due ragazzi si incontrano, può essere una prima forma di buddismo. Però in Italia ci sono stati diversi ragazzi con cui ci sono suicidati, tra cui anche qui in Giorno Mattia. E io sono impegnato con tutta Italia, anche con Vittorio Graziosi, adesso anche con le situazioni che mi stanno parlando di un anno, ad andare all'interno delle scuole. Io, ovviamente, vedo un po', sono direttamente, non attraverso dati istat, che sicuramente vanno presi, ma sono direttamente all'interno delle scuole, quello che accade. E quello che accade oggi, diciamo, è già abbastanza grande. Io vorrei, naturalmente, arrivare a detellare il discorso del buddismo, o riportarlo nei limiti. Vedete oggi, ci sono tanti ragazzi che sono in sofferenza. Oggi, grazie anche a Rita Peredico e a Manolo Bruno, che hanno, ecco, a Manolo Bruno ha subito direttamente delle forme di buddismo abbastanza erabili, poi ci racconterà, diceva alla mamma vita che ha subito un po' tutta questa vicenda, e che poi la famiglia viene coinvolta anche in maniera abbastanza seria, soprattutto le famiglie dei ragazzi che vengono buddizzati. E che ci racconteranno la loro esperienza? Io ho lavorato anche per gli anni, oltre a ciò, tanto sui famotizi, ho lavorato per gli anni con Rai Uno, con il Cappello Rai Uno, dove proprio portavo avanti le storie di buddismo in Italia. E poi in Pitta Grevi, per la mamma, insomma, hanno fatto parte di una delle puntate su Rai Uno, e sono contento perché arrivano da Pugno, proprio per raccontare a tutti noi questa esperienza, che deve servire per preparare gli occhi, a tutti coloro e ai genitori che in qualche momento, forse presi anche dai vari problemi, dallo stress, dal lavoro, a volte non seguono. E collegandomi a tutto quello che è stato detto anche da Silviano Gastoni, certamente è chiaro uno dei più problemi, a volte, è la famiglia. E la famiglia perché non si perdono un po' i valori, le regole. Oggi in posiva, così, a volte i figli pescono in autogestione. Faccio questi esempi, che sono dei esempi, diciamo, più pratici, e che colpiscano per tutti, e anche vedo persone sicuramente che hanno necessità, anche, diciamo, qualche anni in più. Io faccio sempre questi esempi. Io quando andavo a scuola, ricordo che se facevo una manatella, l'insegnante che riusciva da mia madre, io quando riuscivo da scuola, mi vengono finito, mi dicevo, mamma, mi raccomando, non vuoi dire a papà. E mia madre, naturalmente, le ha il compromesso, diceva, io questa volta non lo dico, anche se quello che c'era, senza che io lo sapesse, io non questa volta non lo dico, però la prossima volta, te lo fai, la parli, te le prendi, tra la prima e la seconda. Naturalmente, è più, sarebbe attento a ripetere eventualmente questo, quello che vi impatti. Oggi, invece, cosa succede molte volte? E lo studiiamo nei giornali, anche con il vento, o a saldare l'interprete, che troviamo facilmente. Oggi succede che, se, molte volte, un ragazzo viene l'improverato, il ragazzo va a casa, dice, l'insegnante va l'improverato, un giorno dopo va a scuola, il regitore, e un'improvera l'insegnante che lo incroverà per vivere. E in alcuni casi è successo addirittura che il regitore è andato e ha impiato l'insegnante perché o aveva sospeso il ragazzo o l'aveva riproverato in maniera, diciamo, eccessiva, secondo l'attuale del progetto. A me non è mai successo l'attuale del genere. Cioè, io quando, se mio padre o mio madre andava a una scuola, c'è qualcosa di insegnante, c'è l'inspetto degli insegnanti che vorranno. Quindi ci sono, c'è qualcosa che si è rotto. La cosa che si è rotto è che dobbiamo sicuramente recuperare, ma chi lo deve recuperare? Sicuramente è una cosa che chi lo deve recuperare per prima la famiglia, sicuramente. Grazie.